Buongiorno e ben ritrovati all'aggiornamento per quanto riguarda il servizio postale a Motta Visconti. Naturalmente non è una di competenza del comune la gestione delle poste chiaramente, quindi però volevo informarvi su alcune cose. L'ufficio postale come sapete è stato chiuso ieri, il personale è stato trasferito a Besate per cui tutte le operazioni che venivano fatte a Motta Visconti per quanto riguarda il movimento di denaro, pagamento, pensione eccetera viene fatto negli uffici postali di Besate che saranno aperti tutti i giorni a differenza di prima che apriva solo tre giorni a settimana. Quindi ci sono degli spostelli dedicati solo per i cittadini di Motta e voi potete recare a Besate per i vostri servizi, per queste necessità. Per quanto riguarda il ritiro delle raccomandate abbiamo però pensato, siccome ci potrebbero essere dei disagi sui cittadini di Motta, di organizzare il ritiro presso il comune di Motta, cioè se volete potete portare il tagliandino che avete trovato nella cassetta postale per il mancato consegno, il mancato ritiro della raccomandata, lo potete portare qui in comune all'ufficio Messi che provvederà, dovrete lasciare anche una fotocopia del documento vostro personale, provvederà con la vostra delega a ritirare la raccomandata e il giorno dopo ve lo potrà consegnare, potete venire a ritirare di nuovo in comune a Motta. È un servizio che stiamo facendo più che altro per favorire quelle persone che non hanno la possibilità di recarsi a Besate e quindi potranno usufruire di questo servizio che viene fatto a Motta dall'ufficio Messi. Ricordate, per quanto riguarda le altre operazioni potete anche rivolgervi agli altri uffici come è stato messo nel comunicato che ho pubblicato ieri di Casorate o di Bereguardo, altri uffici dove vi trovi trovi comodi, per quanto riguarda il vostro pagamento di bollette o quant'altro, quindi non è necessario andare per forza a Besate, però dipende da come siete comodi voi. Però per il ritiro raccomandata potete usufruire di questo servizio che mette a disposizione l'ufficio Messi del Comune di Motta Visconti. Perché questa rivoluzione? Il progetto Polis parte dal Ministero delle Poste e delle Comunicazioni, verrà fatto in tutti i comuni con abitanti inferiori a 15 mila abitanti, persone, quindi tutti i comuni saranno coinvolti da questo progetto, non è solo per Motta Visconti. Siamo tra i primi a partire con questo servizio, servizio che quando sarà a regime potrà offrire ulteriori servizi oltre a quelli postali, tra i quali per esempio potrà essere richiesta anche la carta d'identità presso l'ufficio postale o il passaporto, i certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazione di smarrimento di documenti quali denunce, detenzione armi e quant'altro, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni varie, richieste di remissione del codice fiscale, estratto conto, posizioni debitori con l'ufficio imposte, visure planimetriche e catastali, esenzione del canone RAI, delega dei soggetti fragili per la gestione dell'agenzia delle entrate, certificati giudiziari, dichiarazioni ISE, estratto contributivo, insomma una serie di altri servizi che attualmente magari si doveva andare in prefettura o in questura per il passaporto o altri documenti. Quindi si potranno poi fare in questi uffici postali locali, quindi si spera che il servizio naturalmente sarà migliore poi quando sarà a regime e tutto quanto, quindi un po' di pazienza. Siamo in contatto costante con i responsabili del progetto e mi hanno assicurato che nonostante hanno fatto la comunicazione che fino ad agosto, metà agosto sarà chiuso, accelerano il più possibile i tempi per realizzare, completare l'opera e quindi si pensa nell'arco di 40-50 giorni di poter completare il tutto. Io me lo auguro, staremo naturalmente attenti perché questo avvenga per cercare di creare meno disagio ai cittadini. Ripeto, non dipende da noi, è un progetto che cade dall'alto, già lo dobbiamo comunque, io spero che comunque poi dia dei grossi benefici e quindi vi chiedo di portare pazienza per questo periodo. Grazie e arrivederci a tutti.